Musica Stamattina comincia questa tre giorni, siamo qui ospiti del circolo Ilva di Bagnoli, siamo onorati di questa ospitalità, non solo, ma i compagni del circolo sono anche nei fatti copromotori insieme a noi, coorganizzatori, protagonisti massimi, tutto quello che si può di questa manifestazione. Ieri è arrivata anche Vandana Shiva, la nostra principale ospite di queste giornate, sapete che domani pomeriggio presenteremo il suo libro, domani sera avremo questa cena di sottoscrizione per le sue attività di solidarietà con il mondo dei contadini in India e domani andrà avanti tutta la giornata e poi sabato mattina chiuderemo con un altro momento molto bene. Oggi è il 2 giugno, è la festa della Repubblica e noi non potevamo non cominciare questa berlingueriana esattamente misurandoci con questa giornata e questa festa. Ovviamente anche a partire dalla storia e dalla realtà che rappresenta il protagonista intorno a cui abbiamo costruito questa tre giorni che è Enrico Berlinguer per i cento anni della sua nascita. Quindi noi abbiamo qui Massimiliano Amato che è il direttore responsabile di Infiniti Mondi e il professor Claudio De Fiores che è il presidente del CRS Campania, sapete il CRS è il centro per la riforma dello Stato fondato da Umberto Terracini e da Pietro Ingrao, quindi per dirvi di cosa stiamo parlando, il professor Claudio De Fiores è ordinario di diritto costituzionale, di diritto pubblico all'Università Van Vitelli della Campania ed è uno dei giuristi più impegnati esattamente sul terreno della elaborazione di un nuovo quadro di riferimento giuridico per non solo difendere la Costituzione ma ampliare anche lo spettro di tutele, di garanzie e di poteri in questo tempo nuovo così cambiato. Basta, io la mia funzione si è esaurita, do con grande piacere la parola al direttore responsabile di Infiniti Mondi, Massimiliano Amato. Grazie Gianfranco, buongiorno, grazie per la vostra presenza, intanto consentitemi, lo faccio anche per entrare subito in argomento, consentitemi di esprimere, di trasmettervi la mia emozione per parlare in una sala, per il fatto che questa iniziativa che dà il via alla Tre Giorni dedicata ad Enrico Berlinguer, si tenga in una sala intitolata a Piola Torre. La mia emozione è doppia perché è supportata anche da una considerazione, diciamo così, storico-razionale. La Repubblica, nei suoi 76 anni di vita, ha avuto bisogno di eroi per rinnovarsi e per difendersi dagli attacchi della criminalità organizzata, del male, delle forze che hanno tramato contro di esse. Pio La Torre, insieme a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, a tanti martiri dell'antimafia, è uno di questi eroi per cui mi sembra anche bello iniziare questa tre giorni in una sala intitolata ad un eroe della Repubblica, Pio La Torre. Del quale quest'anno peraltro ricorreva anche, qualche settimana fa, ricorreva anche il quarantennale della barbara uccisione da parte dei sicari di Cosa Nostra. Sì, cominciamo e non poteva essere, altrimenti, perdonate, io sono ancora un po' frastornato, cominciamo il 2 giugno e non potevamo non cominciare con una riflessione sulla Repubblica. I francesi hanno il 14 luglio, gli americani hanno il 4 luglio, noi abbiamo due date significative in cui celebriamo due altrettante feste nazionali, in cui celebriamo la nuova Italia, quella nata nel 45 dalla resistenza e dalla guerra di liberazione. Sono il 25 aprile appunto e il 2 giugno del 46, parlo ad una platea molto avvertita, è inutile che vi racconti che cosa è successo il 2 giugno del 46, voglio solo sottolineare un dato che mi fa piacere sottolineare, il 2 giugno del 46 è anche la prima volta che le donne votano da nord a sud della penisola, è uno snodo quello della storia nazionale particolarmente importante e significativo. Facevo riferimento al 14 luglio e ai francesi, al 4 luglio americano, perché se proprio volessimo seguire filologicamente la storia del paese, la storia della nazione, la nostra festa nazionale dovrebbe essere il 17 marzo, il 17 marzo c'è la proclamazione del Regno d'Italia, ma 1861, ma è pacifico ormai, è pacificamente accettato che l'atto di nascita della nazione è il 2 giugno del 1946, anzi a voler essere precisi dovrebbe essere l'11 giugno quando la Cassazione valida il risultato elettorale. Devo dire che, dico questa cosa senza nessuno spirito di faziosità, a proposito del 17 marzo, nel 17 marzo non credevano nemmeno i Savoia, tant'è vero che non fu mai proclamata come festa nazionale, il 17 marzo fu tirato fuori solo nel 50esimo dal 61 come festa, quindi non ci credevano nemmeno i diretti interessati, forse perché l'Italia come paese nasce effettivamente il 2 giugno del 1946. Come sapete fu un percorso molto travagliato, il professore De Fiores che non è solo un costituzionalista, è anche uno storico, quindi dopo ci spiegherà bene i vari passaggi, fu un percorso molto travagliato e anche lo stesso esito del referendum non fu pacificamente accettato, ricorderete tutti voi avete letto, avete sentito anche dai racconti di compagni più anziani, quelli di voi che hanno una certa età, di quello che avviene a Napoli per esempio l'11 giugno del 1946 quando un corteo di monarchici, di sostenitori della monarchia assalta la federazione comunista di Via Medina e ci sono anche delle vittime. Avete letto nei libri di storia, vi hanno raccontato che qui da noi al sud, a Napoli, in Campania, ma nel sud in generale, il voto premiò la monarchia e non la repubblica. D'altro canto il 2 giugno del 1946 si votava anche per l'assemblea costituente e i risultati per le forze che maggiormente si erano battute per la repubblica, mi riferisco ai partiti della sinistra, ai socialisti, ai comunisti, risultarono fortemente minoritari nelle urne rispetto ai voti ottenuti dalla democrazia cristiana la quale ebbe un atteggiamento rispetto al referendum istituzionale sostanzialmente di sostegno alla repubblica di fatto tra la neutralità e il sostegno alla monarchia. Insomma, io stamattina, siccome ogni 2 giugno faccio un pubblico, una scheggia, un ricordo sui social, stamattina, ho ricordato il 2 giugno con una dichiarazione di Nenni fatta nell'intervista sul socialismo italiano a Peppino Tamburrano, Nenni raccontava che De Gasperi gli aveva detto, gli aveva detto a più riprese, e diceva, insomma, mettiamo da parte questa storia della repubblica, mettiamo da parte la questione istituzionale e facciamo la riforma agraria. E Nenni gli dispose, giustamente, diceva, no, io voglio fare sia la repubblica, sia il referendum istituzionale che la riforma agraria, possiamo fare entrambe le cose. D'altro canto, il clima era quello, c'era stato il 25 aprile, c'era stato il trionfo dell'unità delle forze antifasciste e l'Italia aveva cambiato completamente pelle, era cambiato radicalmente il corso della storia italiana. Perché questo cambio radicale fosse il più profondo e il più incisivo possibile, c'era bisogno di quella che i sostenitori del referendum istituzionale chiamavano la rottura istituzionale, cioè il passaggio da una forma di Stato all'altro. Il passaggio da una forma di governo all'altro c'era stato con la caduta del fascismo, già il 25 luglio del 43. Perché quel complesso di eventi e quella svolta che si determinò tra il 25 luglio del 43 e il 25 aprile del 45 avesse una sua compiutezza, perché quel processo avesse una sua compiutezza, era necessaria appunto la rottura istituzionale. La rottura istituzionale che ci fu con il passaggio, con il referendum tra monarchia e repubblica. E fu un passaggio, prima ho parlato di quell'evento drammatico, ma in realtà se noi guardiamo alla storia di queste transizioni istituzionali, esse sono avvenute o sulla base di rivoluzioni o sulla base di grossi eventi, in realtà di grossi eventi di rottura traumatica, voglio dire. In realtà, come ha scritto, come avrebbe scritto poi successivamente Piero Calamandrei, mai nella storia avvenuta, nemmai avverrà che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo, mentre sul trono c'era ancora il re. Insomma, voglio dire, fu anche in questo la transizione italiana fu esemplare, fu una transizione esemplare. Io credo di aver già detto tutto, perché stamattina è giusto che del tema che abbiamo scelto per aprire Berlingueriana parlino gli esperti, tra poco ci raggiungerà il professor Guido D'Agostino, che è presidente dell'Istituto di Storia della Resistenza di Napoli, intitolato alla memoria di Vera Lombardi, però c'è il professore Claudio De Fiores, che come sottolineava Gianfranco, è il presidente del Centro per la Riforma dello Stato, della sezione della Campania, e al professore De Fiores io vorrei subito fare una domanda. Noi abbiamo organizzato, parto dal dato più vicino, abbiamo organizzato questa manifestazione, questa tre giorni dedicata a Enrico Berlinguer, in collaborazione con due associazioni di giovani, giovani nati prevalentemente tra gli anni 80 e 90. Ora, io sono un boomers, come lo è Gianfranco, e quindi il senso di quella rottura del 46 ce l'ho dentro fin dai primi anni della mia vita. Come si fa a spiegare ad un giovane che adesso ha 30 anni, un giovane nato tra gli anni 80 e gli anni 90, la necessità di quella rottura che si produsse nel 46? Bene, grazie, io innanzitutto ringrazio voi, ringrazio Gianfranco Nappi per avermi invitato a prendere parte a queste giornate di riflessione su Berlinguer, tra l'altro in uno spazio così significativo sul piano storico e politico, ma anche affascinante per la sua collocazione. Ora, le questioni che sono state poste sono tante, sono anche controverse nella loro configurazione, partirei un po' dall'ultima, dalla domanda che mi è stata rivolta. Cioè dire, i giovani, la Costituzione e dall'altra parte quello che è avvenuto sul piano storico e gli elementi di rottura che si sono via via avvenuti configurando all'interno dei processi politici di questi decenni. Ora, io devo dire che sono un po' meno pessimista rispetto anche un po' all'impianto della domanda, perché, questo mi capita spesso di verificarlo anche all'università nelle prime elezioni, quando io rappresento quello che è l'assetto costituzionale e soprattutto provo a raffigurare la trama dei diritti, quindi la prima parte della Costituzione, c'è un'attenzione, devo dire, straordinaria e eccessiva da parte dei giovani. Perché quanto è scritto nella prima parte della Costituzione risponde esattamente a quelli che sono i loro bisogni, cioè a dire, la tutela dei diritti, un salario che sia di per sé idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, i limiti al protervio e al dominio del capitale e del mercato, devo dire, la condizione di precarietà, di insoddisfazione sociale di gran parte dei giovani, discende dal fatto che quell'impianto costituzionale, io non dico è stato tradito, è stato eluso nel suo assetto concettuale più profondo. Allora la domanda che immediatamente viene fuori è perché questo non è stato attuato? Allora io cerco di spiegare che la Costituzione non è una legge come le altre, perché per attuare la Costituzione è necessario che all'interno della società si metta in moto un processo forte di mobilitazione e quindi, mentre per applicare una legge è sufficiente una sentenza del giudice, per applicare la Costituzione, per renderla viva, per renderla operante all'interno del Paese, è necessaria non soltanto la politica, ma una buona politica. Quindi è evidente che nel momento in cui la politica viene meno, si subordina ai diktat dell'economico, nel momento in cui il capitale si impone con tutta la sua forza e la sua protervia, non soltanto si comprimono i diritti del lavoro, ma anche quella che è l'ispirazione di fondo della Costituzione è stata compromessa. Non è un caso, lo dico sempre, che questi due processi, cioè gli attacchi alle conquiste sociali del mondo del lavoro in modo particolare e gli attacchi alla Costituzione, sono avvenuti parallelamente, sono due processi che si sono intrecciati e si sono alimentati a vicenda. Quindi la domanda andrebbe ribaltata, quindi il facile elemento retorico e polemico, com'è possibile che nella Repubblica fondata sul lavoro, incardinato sui principi che rispondono, che incardino, veicolano garanzie sociali così forti, poi la condizione di disagio sociale dei giovani e le condizioni di lavoro sono in questi anni peggiorate. Com'è possibile? È possibile perché la Costituzione è stata sotto attacchi in questi anni. Ma è anche vero che ogni qualvolta la Costituzione, soprattutto quando ogni qualvolta si è pensato, si è ipotizzato un percorso globale di revisione costituzionale che mettesse ancora di più in discussione il suo assetto, che limitasse i poteri del Parlamento ulteriormente, già in modo ancora più evidente di quanto è avvenuto in questi anni, i cittadini italiani hanno risposto, con il voto, attraverso un referendum, arginando queste istanze. E quello che è significativo, torno a ribadire, torniamo ai giovani, è che in entrambi i casi, cioè dire sia quando quell'ipotesi venne fuori dalla destra di Berlusconi, sia quando venne ipotizzata e avallata da governo Renzi, il voto determinante fu in entrambi i casi il voto dei giovani. Perché i giovani compresero esattamente che lì era stata messa in discussione qualcosa che riguardava non le forme di governo, la modellistica, l'articolazione dei poteri. C'era un patrimonio di idee e di valori che riguardava la loro stessa condizione. Il dramma di questi anni è che i giovani, a differenza che in passato, la rappresentazione che veniva fatta, non hanno dei soggetti politici in grado di appieno, diciamo così, di apprendere, assorbire, veicolare quelle istanze. Cioè dire, la crisi della forma partita è qualcosa che si sente, si percepisce, giorno per giorno non ne scontiamo le conseguenze. Pensate anche a momenti di significativa affermazione di istanze sociali. Per esempio in una realtà come Napoli, mi ricordo, le mobilizzazioni per l'acqua pubblica. E poi ricordiamo il referendum, e anche lì lo straordinario successo. Perché nell'arco di meno di un anno, quell'impianto concettuale, quelle conquiste, quelle istanze, che dobbiamo ritenere che beni pubblici fondamentali, beni comuni come l'acqua, non potessero essere privatizzati, a un certo punto vengono rovesciate, ribaltate, tradite. Perché nel momento in cui si è tornato a discutere in Parlamento, non c'era una formazione politica che sia stata in grado di farsi carico di quelle istanze, e di difendere. Quindi questo significa che i movimenti che possono anche affermarsi in modo significativo dentro la società, hanno bisogno di una interlocuzione sul terreno della rappresentanza. Altrimenti sono, diciamo, due processi che rischiano di essere fino a se stessi. I movimenti non incidono più sulla agenda politica, come si suol dire, e dall'altra parte la rappresentanza, il Parlamento, quelli che chiamiamo ancora partiti, si riducono sempre di più a ceto politico, cioè a un ceto che non ha rapporti forti di interazione con la società. E questo è il dramma che noi oggi stiamo vivendo. E allora è importante ripartire anche in questo dalla Costituzione. E' importante ripartire da quelli che sono i principi, da quella che è stata la sua storia, perché la storia della Costituzione è sicuramente quella che è stata rappresentata in modo così efficace e preciso nell'introduzione. Ma la storia della Costituzione è anche storia della sua attuazione parziale, è anche storia, in qualche modo, del suo tradimento. Che cosa voglio dire con questo? Che i passaggi sono quelli, quelli che noi abbiamo conosciuto, che sono stati già raffigurati, e cioè a dire la rottura costituzionale. Guardate che ci troviamo di fronte a un percorso che andrebbe esaminato in tutta la sua valenza, in tutta la sua rilevanza. Perché? Quando venne convocata l'Assemblea Costituente, i cittadini italiani diedero all'Assemblea Costituente un mandato, una missione storica straordinaria, che era quella di fondare la democrazia. Perché in Italia non c'era mai stata la democrazia. Perché non era un ordinamento democratico, l'ordinamento fascista, che era un ordinamento autoritario e ditattoriale, e non era democrazia nemmeno l'ordinamento liberale. Noi oggi ci stiniamo a parlare qualcuno, no, di ordinamenti liberali come se fossero, l'apice, l'apugeo, il punto di contestazione di un percorso di civiltà. Gli ordinamenti liberali erano quegli ordinamenti che grazie a straordinari teorici, filosofi che operavano in quegli anni, teorizzavano l'inferiorità biologica della donna rispetto all'uomo, e quindi la donna non era legittimata a votare, e ritenevano che fuori dall'ordinamento, fuori dalle mura dello Stato liberale, dovessero restare le masse popolari. Il voto era un voto censitario. Un grande giurista, probabilmente il studioso più importante di diritto amministrativo, Massimo Severo Giannini, definì quella forma di Stato una forma di Stato monoclasse, perché legittimati al voto erano soltanto i borghesi che a loro volta eleggevano borghesi. Fuori dall'ordinamento c'erano i proletari, gli operai, e d'altronde con nobili motivazioni. Gli operai stanno già 15 ore nelle fabbriche, sono analfabeti, sono già tanti impegnati ad assestare il bilancio di una famiglia, e che pretendiamo anche che assestino il bilancio di uno Stato, ma vi rendete conto a cosa ci esporremmo. E erano queste le motivazioni. L'idea della partecipazione democratica, l'idea della costituzione di partiti in grado di recepire quelle istanze, è qualcosa di là da venire. E' il movimento operaio che si inventa il partito politico. E attraverso il partito politico entra dentro le istituzioni. Ne ribalta l'orizzonte di senso. I parlamenti chiusi, i parlamenti borghesi, diventano un momento di interazione e distanze radicali che si erano venute consolidanti in quegli anni della società. La Costituzione nasce sotto questo auspicio. Ora la Costituzione, sapete, nasce, torno un po' sul dato storico, non il 2 giugno del 46, perché il 2 giugno del 46 è stato il momento conclusivo, l'esito di un processo, quello che i costituzionalisti, i giuristi, chiamano il processo costituente. Perché si convoca un'assemblea costituente, i cittadini votano, votano per le formazioni politiche di riferimento dopo 20 anni, in cui questo non era stato più possibile, votano col sistema proporzionale, e votano anche per scegliere tra due forme di Stato, la monarchia e la repubblica. Però il processo nasce prima e nasce con un evento di straordinario interesse. A me, anche come Presidente del CRS Campania, mi interessa segnalarlo, perché è storicamente noto come svolta di Salerno. Tutto nasce a Salerno con l'arrivo di Togliatti, perché è il primo momento in cui Togliatti pone la questione, non soltanto della sconfitta militare del fascismo, non soltanto del superamento della guerra, di questa immame tragedia, ma dice che l'Italia deve dotarsi di una costituzione. E chiaramente questo avrebbe creato dei problemi con alcune componenti anche antifasciste, per esempio il mondo monarchico, che vengono superate, perché evidente le ragioni sono state dette. Noi avevamo una costituzione, che era lo Stato Albertino, che era una costituzione di impianto monarchico voluta un secolo prima, nel 1848, da Carlo Alberto, e quella era rimasta retriva, regressiva nel suo impianto. Tutto si ribalta, quindi, al ridosso di questa svolta costituente che tiene insieme tutti i partiti, e che per la prima volta si pone un obiettivo concreto, che è la convocazione di un'assemblea costituente, di un'assemblea che dia al popolo italiano una costituzione democratica. Questo non era mai accaduto. È vero anche quello che è stato detto della singolarità di questo processo, perché se mai avesse prevalso la monarchia, noi avremmo avuto una contraddizione rispetto a quelli che sono i connotati tipici delle forme di governo, delle forme di Stato monarchiche. Perché sarebbe stata una monarchia legittimata dal popolo. Invece le monarchie, come sapete, sono legittimate dal titolo dinastico. Quindi, una fase del tutto singolare, densa di contraddizioni, densa di insidie, con tanti difficoltà, difficoltà che, insomma, hanno coinvolto in modo particolare il Mezzogiorno. perché la questione, la riforma agraria, come alternativa alla costituente, perché c'erano, mentre sulla riforma agraria c'era un idme sentire, un'intesa, sulla Costituzione le questioni erano tante, sulla forma di Stato, monarchico-repubblicana, le questioni erano tante e controverse. E allora si arriva a quel voto e quel voto è un voto, sì, che con un margine significativo, ma non straordinario, di consensi segna la vittoria della Repubblica. Però, nel Mezzogiorno, questo non avviene. E allora, qui viene la grande capacità di mediazione delle forze politiche e dei suoi leader, utilizziamo questa espressione, quando la politica è forte. la capacità di gestire, la capacità di essere in grado di arginare le spinte disgregatrici, le aggressive, perché, sapete, il primo Presidente della Repubblica fu Enrico De Nicola. Enrico De Nicola era napoletano, in espressione di questa parte, ed era monarchico, e chi propose le elezioni di De Nicola fu togliatti, il componente della formazione politica. Ormai del Monoglio era monarchico. Ormai del Monoglio era monarchico. Ormai del Monoglio era monarchico. Sì, ma c'era la questione del Mezzogiorno che non era di Napoli. Allora, questa è la... Il primo capo provvissale dello Stato sarebbe stato comunque un monarchico. Comunque un monarchico. Chiunque avesse riuscito. Ma questa era la capacità di organizzare e di gestire i processi politici per evitare che si arrivi a punti di disgregazione non più in qualche modo arginabili. Ora, queste sono le cose che un po' stanno dentro quel processo storico. Poi c'è un altro aspetto, magari su questo ritornerò dopo. La Costituzione si dice è stata... Questo parlo dopo, della guerra. No, torno sulla questione dell'attuazione. Perché la questione... Eh, sì. Ah, ti ripasso la parola. Vabbè. Ecco, vabbè. Allora, no, chiude soltanto su questo punto. Guardate quindi che la storia della Costituzione è storia della sua fondazione ma anche storia della sua attuazione. E il momento più alto dell'attuazione costituzionale è stato, sono stati gli anni 60, il bienio 68-69. Cioè a dire, nel momento in cui la società si attiva si assiste a uno straordinario processo di rinnovamento democratico nel Paese, i movimenti si impongono in tutti i soggetti vivi della società, dai posti di lavoro, dalle fabbriche, alle scuole, alle università e si trova un terreno di interlocuzione con alcune forze politiche. Perché alcune di queste istanze inevitabilmente dovevano essere tradotte in termini di leggi, sotto forma di norme. Cioè a dire, che cosa è accaduto in quegli anni? Che la Costituzione che era stata congelata, la Costituzione parla di referendum, cioè a dire la possibilità, tra l'altro noi siamo alla vigilia di una consultazione referendaria, la possibilità per i cittadini di bocciare o approvare direttamente il contenuto di una legge. Eppure del referendum non si è mai parlato, nel senso che questo istituto è stato ibernato, congelato per decenni. Il primo referendum si svolge nel 1974 riguardava la questione del divorzio. Quindi, noi abbiamo avuto il referendum perché ci sono state mobilitazioni significative all'interno della società italiana che nascono in quel bienio 68-69 con l'affermarsi, anche se in modo in quegli anni ancora timido, della questione femminile. lo statuto dei lavoratori, altro passaggio significativo della legge 300 del 70, FOA la definisce il momento in cui la Costituzione varca finalmente i cancelli delle fabbriche, perché all'interno delle fabbriche sono tutta la serie di principi, di diritti che sono parte integrante del testo costituzionale diventavano parte integrante del modo di vivere e concepire il lavoro, le forme di organizzazione, i diritti civili, le libertà all'interno della fabbrica e sui luoghi di lavoro. Ma poi anche le regioni, sì, finalmente con la Costituzione a disporre del potere legislativo non era soltanto il Parlamento ma anche le singole comunità territoriali, le regioni potevano disporre del potere legislativo e i cittadini per la prima volta votare per i rappresentanti regionali. lettera morta anche queste per decenni. La prima legge la legge del 68 e le prime elezioni per il Consiglio regionale noi le abbiamo nel 1970. Quindi vedete che nel momento in cui forme organizzate della politica irrompono all'interno dei partiti nella società nei luoghi di lavoro nelle fabbriche la Costituzione si rimette in moto e si rimette in moto anche sul terreno dei diritti. guardate che la Costituzione aveva scolpito che i coniugi marito e moglie hanno gli stessi diritti si parla dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ancora nel 1975 avevamo le disposizioni del codice civile che diceva che la donna rende il nome del marito che la potestà è quella del padre la patria potestà non c'è ancora la potestà genitoriale e che la donna deve seguire il marito laddove dire che è un opportuno che questi fissi la propria dimora la propria residenza e allora per attuare quel pezzo di Costituzione vi è stata la necessità si è reso necessario l'irruzione nella società civile del movimento delle donne un pezzo di quei movimenti che aveva avuto il suo che si era venuto così profilando con forza e che aveva segnato la scena politica alla fine degli anni 60 ora quindi è da lì che dobbiamo partire noi possiamo pensare che a un certo punto la Costituzione ci cali dall'alto sotto forma di attuazione perché questo non avverrà mai perché i rapporti di forza spingono in un'altra direzione perché se non c'è una politica in grado di intercettare queste istanze sappiamo benissimo cosa è accaduto in questi anni appena si è registrato una sconfitta significativa storica del movimento operaio e delle forze della sinistra si sono ripressi quasi tutto come per dire non erano qualcosa che ci avevano regalato erano qualcosa che il movimento dei lavoratori aveva conquistato e alla prima occasione si sono ripressi tutto ora o quasi tutto ora esattamente ci troviamo in questa fase quindi come diceva il mio maestro che era Gianni Ferrara la Costituzione è un terreno di lotta è un terreno di mobilitazione noi dobbiamo partire da questo presupposto perché altrimenti non comprendiamo né la natura storica ma nemmeno quella giuridica del testo costituzionale grazie professore mi ha quasi completamente bruciato la seconda domanda che volevo farle perché proprio di questo volevo parlare in questa seconda tornata cioè del lungo tradimento della Costituzione che dura una ventina d'anni voglio dire la Costituzione repubblicana entra in vigore il primo gennaio del 48 bisogna attendere 22 anni perché entra in fabbrica con lo statuto dei diritti dei lavoratori altrettanti perché lo Stato si articoli attraverso assuma una una forma di decentramento attraverso l'istituzione delle regioni la riforma del diritto di famiglia di cui pure lei ha diffusamente parlato che di fatto che di fatto applica fondamentalmente secondo me l'articolo 3 voglio dire è il 29 ma soprattutto l'articolo 3 nel primo comma senza distinzione di sesso di razza e di nazionalità quindi applica l'articolo sull'uguaglianza sostanziale dei cittadini e fa bene il professore devo dire con straordinaria efficacia a sottolineare un dato e cioè che la Costituzione è la tavola della legge fondamentale ma poi alla fine lo sviluppo gli sviluppi della storia nazionale sono determinati dalla politica e il il senso delle sue parole delle parole del professore De Fiores è questo che la forma di governo che si impone nel 1945 e cioè la democrazia è una forma di governo che ha una natura processuale non può essere mai data mai dare per scontato che noi avremmo potuto avere paradossalmente anche una forma di Stato repubblicano e una forma di governo autoritario avremmo potuto avere una forma ci sono esempi nella storia anche d'Europa così come ci sono esempi ancora oggi nella storia d'Europa di forme di governo democratiche e forme di Stato però monarchi che voglio dire il Regno Unito la stessa Spagna se pensate alle socialdemocrazie nordiche insomma sono dei regni in cui c'è una forma invece no noi abbiamo avuto tutto ci siamo presi mi ricordo mi ricordo uno slogan della mia generazione vogliamo tutto insomma però noi ci eravamo già presi tutto tra il 45 e il 48 in effetti insomma e però quello slogan della mia generazione poneva poneva un avanzamento ancora più radicale ancora più profondo ancora più forte e diciamo sono d'accordo anche con con l'analisi che fa il professore dal punto di vista storiografico dal punto di vista giuridico perché non ho le sue competenze e comunque dire che io per la verità professore parlerei di un decennio il decennio 69-79 io circoscrivo che ripari in cui ripari esatto quello è il decennio durante il quale c'è stato è vero c'è stato è vero una breve stagione di riforme all'inizio degli anni 60 nei primissimi anni 60 il primissimo centrosinistra è una stagione comunque inaugura una stagione di riforma però guardate come guardate come come poi le cose che stiamo dicendo stamattina non sono poi tanto campate in anima è una stagione di riforma che viene immediatamente stroncata c'è il paese è ancora lontano dal dettato costituzionale in fondo il primo centrosinistra riesce a fare che cosa la nazionalizzazione dell'energia elettrica che è una riforma è una riforma importante dal punto di vista economico e riesce a fare solo la riforma della scuola media unica che è un'altra riforma fondamentale indubbiamente però non riesce a fare però non riesce a fare per esempio la riforma urbanistica proposta da Fiorentino Sullo che era una riforma molto avanzata che puntava a tagliare le unghie a tagliare gli astigli alla grande speculazione fa una riforma un anno dopo nel 64 la fa non un democraziano la fa un socialista Pieraccini ma è una riforma molto molto anacquata rispetto rispetto a quella e sappiamo tutti che cosa succede nel 64 quando il gabinetto Moronenni viene fatto fallire miseramente anche con lo zampino della presidenza della Repubblica voglio dire e anche di forze oscure di forze oscure però voglio dire non voglio fare la lezione di storia perché sono cose che conoscete benissimo però per dire che per tutti gli anni 50 almeno fino alla fine degli anni 60 questa natura processuale della democrazia è oscurata in qualche modo è un processo che va molto molto lento va molto lentamente poi è vero sotto la spinta delle forze organizzate delle forze della sinistra sotto la spinta dei movimenti che nascono in quegli anni anche a sinistra della sinistra tradizionale dei partiti sotto la spinta tra il 69 e il 79 riprende vigore la democrazia italiana riacquista la sua natura di processo di divenire di un divenire continuo e questo devo dire insomma credo che questo sia poi uno dei dati fondamentali sarà uno dei dati fondamentali di riflessione anche di questa tre giorni che abbiamo organizzato perché è importante poi creare la cornice storica intorno alle cose che diciamo Enrico Berlinguer è vice segretario nel 68 e diventa vice segretario del partito comunista cioè del maggiore partito d'opposizione nel 72 quindi siamo nel pieno del decennio di cui vi ho parlato diventa segretario segretario del partito comunista al congresso di Milano in una fase particolarmente turbolente e drammatica della vita della vita del paese tanto per dire io l'ho detto già in un'altra occasione il giorno in cui Berlinguer viene eletto segretario del partito comunista al palalito al congresso del partito comunista a pochi chilometri di distanza assegrate sotto un traliccio dell'alta tensione viene ritrovato il cadavere di Gian Giacomo Feltrinelli che insomma finanziava e faceva parte dei gruppi dell'estrema sinistra ed era saltato in aria sotto il traliccio questo traliccio dell'alta tensione perché era andato a minarlo era andato per un attentato tant'è vero che io sono andato un po' negli anni scorsi questo quando ho fatto anche qualche ho fatto anche un lavoro sono stato anche all'università ho fatto i contratti a termine all'università sono andato a vedermi un po' la rassegna stampa del congresso dell'elezione di Berlinguer sulla stampa sulla grande stampa nazionale quasi oscurata dal caso Feltrinelli invece quella elezione poi dà una spinta importante una spinta enorme diciamo al processo di democratizzazione del paese e su questo punto la volevo sentire professore cioè sulla natura processuale della democrazia che esce forte dall'impianto dall'impianto della Costituzione intanto nella nella prima parte quella la trama dei diritti come la chiama lei ma anche nelle altre parti della nostra carta bene allora anche qui le questioni sono tante vado per per cenni allora nella nell'intervento sono richiamati il tema della della monarchia il rapporto tra monarchia e democrazie e l'esperienza dei paesi del nord e che invece in Italia noi abbiamo voluto tutto ci siamo preso tutto perché di fronte alla scelta che la posta ai cittadini italiani tra monarchia e repubblica i cittadini optano in maggioranza per la repubblica ora questo è vero ed è vero anche che ci sono forme di governo consolidate che sono quelle delle monarchie costituzionali il problema non è tanto la monarchia la repubblica con riferimento al dato costituzionale ma i tipi storici di monarchia il rendimento delle monarchie sul terreno storico e nazionale ora guardate che insomma la presa di posizione dei cittadini italiani riguardava non tanto una adesione alla repubblica intesa come forma di stato ma c'era una censura netta nei confronti della monarchia sabbauda questo è il dato della monarchia che si era aveva non aveva consentito di fatto non ponendo disposizioni d'arci come tra l'altro sollecitata dal governo fatta aveva consentito o comunque favorito l'avvento del fascismo perché questo vava richiamato e nel momento di maggiori disorientamento sociale e politico durante il periodo bellico la monarchia a un certo punto evapora non sappiamo bene dove va a finire il re c'è quell'espressione bellissima di soldi in un film mi dice è scappato creando grandi imbarazzi in quella cena di monarchici ecco allora è questa la monarchia con cui noi abbiamo fatti i conti ha fatti i conti il nostro paese gli altri esempi che sono stati richiamati anche altri processi costituenti la Spagna in Spagna cosa è accaduto che nel momento in cui si è posta la questione la monarchia non viene messa in discussione ma perché ha una sua legittimazione perché quando nel 81 mi sembra Tehero arriva in Parlamento e occupa militarmente l'aula chi interviene è il re allora la legittimazione sul piano storico e democratico delle monarchie si misura in base a questi eventi è questo allora c'è anche un aspetto rispetto all'attuazione sono d'accordissimo quello che volevo dire è che il processo di attuazione della Costituzione si incardina prende avvio nel bienio 68-69 e poi rimane in campo per almeno 10 anni probabilmente il momento di chiusura sul piano simbolico perché gli storici hanno sempre bisogno in qualche modo di separare le fasi storiche individuare i momenti di chiusura vivono di queste cose probabilmente è la riforma sanitaria la legge 88-69 quindi la riforma sanitaria del del 1978 è l'ultimo momento in cui una certa idea della Costituzione della democrazia delle garanzie sociali che si ispira a quelli che sono i principi che stanno al centro del dettato costituzionale hanno un risvolto sociale forte nel senso che sono ancora considerato idmi sentire nella Repubblica sono ancora considerate parte attiva del modo di concepire la vita la politica ancora in quegli anni da lì dopo nel 78 cambia molto anche il sequestro amore è un punto di rottura della storia repubblicana e quello che accade negli anni a venire ci pone al cospetto di un processo di restaurazione che ha varie cause non è questo forse la sede per ragionarne però insomma qualcosa è avvenuto oltre i confini italiani e i riflessi sono visti su tutto l'occidente anche in Italia in modo particolare la trilaterale ora la questione è questa che il processo di attuazione della Costituzione è vero ci sono dei prodromi già negli anni del centro-sinistra in modo particolare la riforma della scuola dentro la riforma della scuola c'è un pezzo un asse della Costituzione che prende vita è chiaro che la scuola era stata concepita su parametri su criteri di classe si interviene esattamente su questo terreno con la scuola della media unificata e poi c'è anche un altro aspetto che questi processi lentamente non soltanto erano ostacolati da forze reazionali e di destra ma le trame versive hanno svolto un ruolo assai significativo in questa direzione si sono messi di traverso nel tentativo di far saltare il processo di attuazione costituzionale questo è avvenuto nel 64 la vicenda è stata dichiamata il piano solo il Presidente della Repubblica l'ictus il rumor di sciaboli di nenni la vicenda storica è nota però la Milano quasi la prova che l'ictus è sempre viene quanto meno di avere le prove magari anche non ce ne hanno nemmeno che vanno a pagare di avere le prove del suo concetto il suo concetto è più solo e tra l'altro la formazione del governo avviene voi sapete quando si assiste alla formazione del governo si sentono i leader le formazioni politiche si assistono questo cerimoniale queste porte della presidenza che si aprono si chiudono il corridoio i giornalisti e si si dice vengono consultati i leader di partito e i capigruppo le formano alcune volte anche le organizzazioni sindacali gli ex presidenti della Repubblica e in quel caso erano anche consultate le forze di polizia e i carabinieri nel 64 quindi qualcosa sta avvenendo di profondo nella trama della democratica del paese ma poi Piazza Fontana è il 69 quindi nel mezzo di quel processo che facevo riferimento prima abbiamo parlato prima del referendum sull'abborso del divorzio del 64 nel momento in cui si discute la riforma del diritto di famiglia abbiamo un'altra strage a Bologna quindi questi processi di inveramento del dettato costituzionale nella vita di ogni giorno nella società sono stati fortemente ostacolati sia in forme legali politiche da formazioni politiche che erano contrarie in qualche modo a queste istanze ma anche con le bombe e l'attivazione delle trameversive ora avevo segnato altre cose ah sì allora il tema della 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 democrazia come istanze procedurali certo però non io non vorrei evitare dovremmo tutti evitare di pensare che la democrazia si incardina attraverso un procedimento perché l'esito a cui approderemo inevitabilmente è che la democrazia è quell'assetto politico che si regge sul principio di maggioranza per cui si vanno a computare i voti che alla maggioranza decide ora la costituzione e il costituzionalismo nasce invece su istanze che sono avverse a questo principio la differenza tra la democrazia come istanza procedurale e la democrazia costituzionale come istanza di tipo sostanziale politica è questa che la prima tendeva a fermare sempre e comunque il principio di maggioranza mentre la democrazia costituzionale si fonda sulla tutela e il rispetto delle minoranze e sul piano politico sulla previsione di disposizione di per sé ironia per assicurare che una minoranza possa diventare maggioranza ecco questo è da qui questo è il discrimine che ci consente di comprendere l'assetto costituzionale di un paese e soprattutto il tipo di democrazia che si è venuto delineando in un contesto politico e sociale perché dico questo? perché il costituzionalismo nasce come critica pervicace ostinata del potere in tutte le sue forme anche del potere popolare anche delle determinazioni insomma è sufficiente leggere il primo articolo della costituzione la sovranità appartiene al popolo quindi sovranità significa chi è sovrano può far tutto ma subito dopo il costituente ci tiene a precisare che l'esercito nelle forme nei limiti della costituzione quindi anche il potere popolare è un potere limitato perché quindi il popolo non può far tutto perché se domani la maggioranza Parlamento e Governo eventualmente anche con faccio gli esempi di scuola con i cittadini la grande maggioranza dovessero votare una riforma che incide sull'assetto costituzionale che abroga la libertà personale che abroga le disposizioni sulla libertà di manifestazione del pensiero ecco tutto questo non sarebbe possibile nemmeno il popolo può avallare soluzioni di questo tipo e allora perché questo anche qui la storia è stata fondamentale sono le vicende storie a cui abbiamo fatto riferimento prima l'instaurazione dei sistemi autoritari in Italia e in Germania l'instaurazione di questi sistemi avviene nello scrupoloso rispetto delle disposizioni costituzionali non si è violato a mezzo articolo dello Stato Albertino quando si è conferito l'incarico al Cavalier Mussolini nel 22 e nessuno può mettere in discussione che in Germania c'è stata una scesa straordinaria strepitosa di un partito che dal 2-3% delle prime consultazioni elettorali arriva nel 33 con un consenso straordinario e la frammentazione delle formazioni politiche era tanta e tale che di fronte a quel partito il Presidente della Repubblica allora della Repubblica di Weimar ritiene che ci sono tutte le condizioni normative poste da quella stessa Costituzione per conferire l'incarico a formare un governo da parte di Adolf Hitler ora questi sono i processi procedurali che a seconda con istanze di tipo democratico nel senso che i cittadini votano perché poi è avvenuto questo anche con tutti i limiti sappiamo benissimo quello che è accaduto in Italia in quegli anni e anche le elezioni del 24 la legge acerbo le intimidazioni denunciate da Matteozi sappiamo tutte queste cose però è indubbio che in quelle elezioni comunque il partito fascista il listone ha avuto un consenso in molti casi in alcuni casi diciamo così ogni volta la legge acerbo viene evocata succede sempre qualche cosa allora noi di questo dobbiamo rendercene conto non voglio tornare sempre a Togliatti ma Togliatti quando nelle elezioni del fascismo definisce il fascismo come un regime reazionario di massa ha ragione e di massa si è fondato sul consenso quel consenso non ci è stato estorto cioè togliamoci da questa è un po' la raffigurazione di matrice liberale quasi l'idea che tutti i cittadini venivano prelevati portati in decambio portati a Palazzo Venezia non è così in quegli anni la società italiana creva nel progetto nel progetto fascista che riteneva che da lì passasse il primato della nazione che avremmo conquistato il mondo che avremmo affermato la nostra superiorità etnica sul resto del mondo queste erano le concezioni che stanno alla base quindi Cogliatti ha ragione era un regime di massa e allora si tratta di porre degli argini perché se noi ci affidiamo solo al computo dei voti e non poniamo degli argini dei paletti questi paletti li può porre solo la Costituzione inevitabilmente ci esponiamo a conseguenze di questa natura io non posso evitare di farle qualche domanda sull'attualità perché insomma noi ci troviamo in un altro snodo particolarmente delicato della storia d'Europa lascio da parte qualsiasi considerazione di carattere di carattere storiografico però insomma non possiamo ignorare che quello che sta avvenendo da da tre mesi da più di tre mesi a questa parte ridefinisce ridefinisce la 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 storia la storia d'Europa per come l'abbiamo conosciuta e per come si è si è formata negli ultimi settant'anni il nostro paese è ha assunto una posizione definita determinata negli ultimi nelle ultime settimane c'è stata qualche correzione di rotta però voglio dire il nostro paese è entrato in un certo modo nel conflitto scatenato da Putin con l'invasione con l'invasione dell'Ucraina dico questo così mi metto subito al riparo questa è la premessa essenziale e devo dire questa premessa essenziale comincia anche consentitemi il termine l'espressione a rompermi un po' le scatole perché dietro questa premessa essenziale poi insomma vabbè nel paese è in corso un dibattito cioè la fornitura entro subito nell'argomento la fornitura delle armi all'Ucraina significa una violazione dell'articolo 11 e in ogni caso se la fornitura di armi all'Ucraina significhi che l'Italia è in guerra contro la Russia lei ha rilasciato un paio di interviste ne ricordo una particolarmente chiara e significativa al riformista dalle circa un mese un mese e mezzo fa in cui ha detto delle cose su questo punto di domanda volevo ascoltare volevo sapere volevo sentirla sapevo che si arrivava a questo nodo che è il tema della guerra tra l'altro è un nodo drammatico cruciale in questo passaggio d'epoca allora anche qui premesse di carattere storico che poi storico non sono perché sono premesse dalle quali non possiamo prescindere nemmeno oggi allora si dice generalmente che la Costituzione è figlia di Auschwitz io sarei un po' più preciso la Costituzione è figlia della speranza che Auschwitz non si sarebbe mai più ripetuta nella storia degli uomini e che quindi la guerra sarebbe stata relegata fuori dalla storia ora se noi anziché leggere quello che scrivono e dicono noiosissimi costituzionalisti oggi sulla guerra e la violazione del diritto internazionale ci mettessimo a leggere seguire quello che è stato il dibattito in assemblea costituente perché il dibattito in costituente è un dibattito che è veicolato non soltanto da ragioni ma da passioni ci sono questioni di cuore che rompono in quel dibattito e c'era una condivisione un ismo e sentire fra tutti cioè l'idea che la guerra doveva essere relegata definitivamente fuori dalla storia dopo quello che era accaduto Auschwitz da una parte l'incubo nucleare dall'altro che si era innescato dopo le bombe a Hiroshima e a Nagasaki e anche qui torno con il sentito Togliatti in assemblea costituente dice intanto certo l'obiettivo è relegare la guerra fuori dalla storia intanto releghiamola fuori dalla legge cioè dire la guerra è illecita dichiarare guerra è un atto illecito e quindi definiamo le condizioni per escludere questa possibilità all'interno del testo costituzionale è così che nasce l'articolo 11 della costituzione che ha quell'incipit noto l'Italia ripudia la guerra quindi questo è il principio il principio è quello del ripudio della guerra come istanza di base di tutte quelle disposizioni e sono tante che riguardano effettivamente i rapporti della pace e guerra perché non si parla soltanto dell'articolo 11 c'è poi troviamo tutta una serie di disposizioni che riguardano l'unica guerra messa dal nostro ordinamento che è la guerra di difesa la corte si è discusso che significa guerra di difesa la corte costituzionale ce l'ha detto in una importante sentenza del 1989 sono quelle guerre che il nostro ordinamento deve affrontare a salvaguardia del territorio nazionale quindi è questo se noi subiamo un attacco bellico dobbiamo difenderci quindi non accettiamo la guerra di aggressione è vero che il nostro ministero non è più come la denominazione non è più quella di matrice liberale fascista del ministero della guerra il nostro ministero si chiama ministero della difesa appositamente e questa è la ragione quindi fuori dalla guerra di difesa tutte le altre guerre sono illecite sono illegali e quindi che cosa significa guardate che l'articolo 11 ha una strana sorte perché alcuni tendono il più possibile a manipolarne il significato dividendolo prima seconda parte altri invece tendono a deluderlo completamente così ha fatto il governo italiano perché nelle dichiarazioni del presidente del consiglio Draghi non c'è un solo passo nell'informativa quando si discute proprio di forniture di armi non viene mai citato l'articolo 11 non viene mai citato nei decreti di deroga non viene mai citato o qualche volta viene citato ma male nel dibattito parlamentare quindi questo è già qualcosa che deve indurci a riflettere ma poi c'è stato anche qualcuno che ha attaccato ripetutamente l'articolo 11 dicendo che è un condensato di contraddizioni anche tra i giuristi dicendo addirittura che è una norma vigliacca perché quando c'è una crisi internazionale l'articolo 11 dice di voltarsi dall'altra parte guardate questo non è assolutamente vero perché la matrice è un'altra ammesso che è preso atto che la nostra Costituzione non ammette che vieta la guerra tutto quell'assetto di norme di disposizione che sta anche dentro l'articolo 11 compreso il riferimento all'adesione a organizzazioni internazionali che operano per la pace e la giustizia fra le nazioni ci dice un'altra cosa che noi non possiamo accettare la guerra ma che siamo obbligati nelle sedi internazionali e anche sul piano nazionale a ricercare soluzioni di pace e questo è lo spazio lei per l'altro lei ha fatto un riferimento in quella intervista che richiamava lei ha fatto un riferimento bellissimo dal punto di vista teorico a Kelsen che ci invitava a trovare la soluzione del negoziato della pace in piena guerra voglio dire insomma Kelsen è il padre del pensiero costituzionale moderno lo dicevo anche perché nei periodi più bui quelli che sono chiamati gli utopisti in qualche modo ricercano soluzione perché se c'è la guerra dobbiamo pensare a come si arriva alla pace non c'è un'altra soluzione questo ha fatto Kelsen nel corso del secondo conflitto mondiale quando anche le sorti del mondo erano messe in discussione perché già si parlava anche di soluzione nucleare ma quello poi hanno fatto anche altri in Italia pensate nel momento in cui in Europa c'era una carneficina tra i popoli europei un signore con qualcun altro in un'isola non distante a Ventotene immagina un processo di integrazione europea e la costruzione di un'Europa di pace e sociale quindi è quello uno spazio che inevitabilmente va praticato se gli altri se i rapporti di forza non ce lo consentono questo è lo spazio che noi ci dobbiamo ricavare dobbiamo inevitabilmente provare a percorrere queste soluzioni quindi insomma la questione è questa c'è uno spazio che è quello della diplomazia e che però va sfruttato sul serio va preso sul serio perché non è stato fatto nulla in questa direzione per esempio la Fonderlein l'Unione Europea le presi posizioni ci ricordiamo di qualche giorno fa bisogna proseguire con l'invio delle armi con la guerra fino a quando non assisteremo alla sconfitta della federazione russa l'obiettivo quindi che si persegue la De Bellazio ora più questa guerra va avanti più le possibilità di approdare una soluzione di carattere diplomatico si riducono questa è inevitabile era necessario sperimentarle da subito l'invio anche il concegno normativo sperimentato in Italia ma in modo ancora più significativo negli Stati Uniti per cui c'è una sorta di bonifico periodico per cui sistematicamente vengono inviate le armi senza una strategia politica ci espone inevitabilmente a conseguenze che noi non siamo al momento in grado di prevedere ora torno sulla questione giuridica ora su questo ci sono sensibilità diverse che si sono anche misurate che si sono venute in qualche modo appalisando anche tra i costituzionalisti nel dibattito politico però è una questione rispetto alla quale la mia soluzione in qualche modo l'espessa già in quell'intervista cioè l'invio delle armi al di là del fatto si configurabile o meno come guerra perché se noi fossimo in guerra dovremmo allora a questo punto attivare le procedure previste dall'articolo 78 della Costituzione cioè a dire deliberazione dello stato di guerra da parte del Parlamento conferimento al governo dei poteri necessari non più dei pieni poteri e dichiarazione da parte del Presidente della Repubblica non si fa non si fa per varie ragioni ma a mio modo di vedere innanzitutto per una perché questo è un percorso che è stato designato dal Costituente per le guerre di difesa e quindi questo ci pone già un problema l'invio delle armi e su questo il diritto internazionale che ci dice c'è una sentenza in modo particolare alla quale io farei riferimento una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 1986 in cui la Corte Internazionale di Giustizia dice che l'invio delle armi è illegale perché è affine all'uso della forza e quindi la Corte Internazionale di Giustizia distingue il supporto che viene dato in alcuni paesi o alcune organizzazioni militari supporto anche economico di viveri con riferimento anche all'impiego l'utilizzo di sanzioni cioè tutto questo da un'altra ipotesi che invece è il supporto militare attraverso l'invio delle armi ora la Corte Internazionale di Giustizia su questo è netta in questa sentenza del 1986 distingue queste due ipotesi ritenendo l'ipotesi di invio delle armi illegale ora questo è il dato che noi possiamo apprendere anche dal diritto internazionale perché poi gli altri margini sono alquanto ristretti ora al di là delle valutazioni di tipo politico noi dobbiamo anche partire dal presupposto che gli rapporti di mutua assistenza a un paese si sono qualcosa che ci coinvolgono in quanto coinvolgono l'Italia diciamo meglio coinvolgono il nostro Stato perché lo Stato italiano sapete che parte integrante della Nato e i vincoli di mutua assistenza prevedono che ogni qualvolta viene attaccato un paese Nato scatta questo obbligo di assistenza che coinvolge tutti i componenti di questa alleanza ma sul piano giuridico la vicenda dell'Ucraina si pone in termini diversi perché l'Ucraina non è un membro della Nato e quindi questo pone dei problemi quindi vedete le questioni sono tante ora quello che questo è un dato diciamo sì certo sul piano giuridico vi posso dire è che in Italia non soltanto il testo costituzionale l'articolo 11 non soltanto le disposizioni del diritto internazionale ma anche le leggi non prevedevano questa possibilità dell'invio delle armi fino ad oggi è vero quello che dice Draghi dell'informativa lui ha perfettamente ragione dice per la prima volta il governo italiano si assume una responsabilità che nessun governo nella storia repubblicana si era mai assunto è vero perché fino ad oggi non era mai accaduto ma perché non poteva accadere anche le leggi non lo consentivano tant'è vero che i decreti che sono stati adottati sono decreti di deroga cioè dire ci sono delle disposizioni vigenti ancora oggi che però nel caso di specie sono state derogate sono state in qualche modo eluse allora sul piano giuridico è questo i riferimenti sono questi mi rendo conto che c'è una questione politica ma la questione politica va affrontata sul terreno diplomatico in questa fase ora si è parlato anche nell'incontro che abbiamo avuto a Napoli visto che c'è stata anche una presa di posizione significativa di alcuni centri di studio anche il centro di forma dello Stato in modo particolare ma poi è stata ripresa anche dal presidente della Repubblica Mattarella quindi una conferenza di pace sul modello Helsinki che coinvolga tutte le grandi potenze e quindi eviti in qualche modo di pensare che la questione riguardi soltanto due paesi perché sappiamo che così non è è una questione quella che si è venuta profilando a ridosso dell'invasione dell'Ucraina che coinvolge e riguarda l'Europa riguarda gli Stati Uniti e non soltanto l'Ucraina e la Russia per non parlare di soggetti che tra virgolette appaiono dormienti ma che dormienti non sono in modo particolare la Cina che molto dipende da quello che quelle che saranno le future presi di posizione della Cina su questo terreno probabilmente segneranno quello che potrebbe essere l'esito di pace di guerra i punti di approdo di questa vicenda quindi la questione è proprio questa bisogna trattare non so se abbiamo terminato questo punto no volevo soltanto su questo una cosa perché io ho l'impressione guardate che su questo noi scontiamo per tornare un po' alle premesse dalle quali avevamo partiti vi ricordate avevamo parlato del ruolo della politica il primato della politica la partecipazione cioè il sonno della politica ha creato mostri noi oggi noi ci troviamo di fronte al leadership delegittimati sul terreno storico e politico deboli deboli le leadership politiche a livello globale sono cioè io è veramente da rimpiangere Kissinger e tutti gli altri perché sono assolutamente deboli in questa fase non credibili e allora la soluzione è una soluzione che sicuramente deve coinvolgere innanzitutto la politica deve coinvolgere gli stati venendo qui ieri guardavo un po' volevo leggere un po' cercare di capire insomma se ci sono stati e tra l'altro ce ne sono tantissime significative presi posizioni di Berlinguer sul tema della pace della guerra tra l'altro Berlinguer dicevo oggi a un collega un amico era particolarmente giovane nel 49 quando si è discusso dell'entrata in Italia dell'esione in Italia della Nato poi quando ci sono le state sono partite le guerre di globalizzazione dopo il crollo del muro di Berlino l'89 Berlinguer già non c'era più la fase che lo ha coinvolto in pieno e lui tra l'altro si è schierato tutto il partito in quella circostanza contro l'installazione dei missili a Comiso e proprio quella vicenda che riguarda a cavallo tra gli anni 70 e 80 che riguarda l'escalation in quella che era chiamata l'equilibrio dei rapporti di deterrenza la costruzione dell'equilibrio del terrore ma lo fa con posizioni nette ora anche in quella circostanza ieri reggevo questa presi di posizione di Berlinguer il discorso alla marcia per la pace per l'Ugge Assisi dell'83 e lui ribadisce questo concetto che io ho trovato di estrema attualità che ho voluto riportare qui e ve ne do lettura lui chiude con queste parole trattino dunque gli stati non cedano alla facile lusinga dell'intrassingenza della sfida della provocazione ma al tempo stesso i popoli facciano sentire la loro voce il loro peso la loro volontà di vita e lo trovo di straordinaria attualità perché se noi rinunciamo all'azione diplomatica e rinunciamo alla politica intesa come istanza di mobilitazione sul terreno pacifista quello che abbiamo di fronte sono soltanto i rapporti di forza e lo scenario è quello della guerra vi ringrazio grazie grazie al professore Claudio De Flores grazie a voi che ci avete ascoltato mi sembra mi sembra giusto chiudere questa questa nostra discussione di oggi questa nostra conversazione su questa bellissima frase di Enrico Berlinguer noi chiudiamo qua questo appuntamento ma come sapete Berlingueriana andrà avanti per tre giorni fino al 4 giugno il programma è inutile che ve lo ribadisca insomma lo trovate dappertutto e saranno tre giorni di discussioni di dibattiti di confronti anche importanti con questo grande appuntamento con l'Alexio di Vandana Shiva ci vedremo no l'Alexio è domani no è sabato mattina l'Alexio domani però lei prenderà parte alla presentazione del suo ultimo libro grazie della vostra attenzione e ci vediamo ci teniamo ci vedremo in questi giorni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti